In questa puntata, Bollo Auto, Tartufo di San Giovanni d'Asso, Bollo Auto, approvata la legge che elimina agevolazioni per noleggio senza conducente. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del Bollo Auto. La prima, la più significativa in termini numerici, riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento, ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo, ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana, venga corrisposto, analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli, il Bollo direttamente alla Regione Toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche. Non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal Bollo, ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche. E da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del Bollo al momento della trascrizione della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Una volta era necessario avviare un iter amministrativo per poter godere della sospensione del pagamento della tassa con i diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti per poter affruire di questa sospensione, oggi al momento della trascrizione della cessione automaticamente si produce l'effetto sospensivo. Quindi da una parte abbiamo 9 milioni e 200 mila euro di gettito in più sul Bollo che vengono dall'applicazione del Bollo anche alle auto che sono a noleggio senza conducente. Dall'altra però ci sono minori entrate, ad esempio per l'estensione alle automediche o ancora per questo effetto sospensivo immediato per le imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli, di 200 mila euro, con un saldo quindi di 9 milioni di euro in più derivanti dal gettito del Bollo Auto. La regione toscana con un'urgenza che è tutta propria viene a chiedere a una nicchia di lavoratori 9 milioni di euro di risorse finanziarie che però non vuole dire dove saranno finalizzate. Quello che è il dubbio in questo momento è che si stia cercando di battere cassa più possibile per risolvere dei buchi di bilancio che in realtà come nodi al pettine arriveranno a dicembre quando saranno presentati i bilanci e l'ipotesi al Consiglio regionale. La regione toscana aveva la possibilità, la regione toscana grazie a questa modifica normativa andrà ad incassare nel 2023 9 milioni di euro in più rispetto al passato che destinerà al comparto della sanità. Tutto bene. Allora noi ci chiediamo cos'è successo nel 2022. Perché? Cos'è successo alla sanità toscana nel 2022? E perché questa domanda? Perché la legge che permetteva alla regione toscana di incassare questi 9 milioni di extragedito è la legge di stabilità del governo del 2019 in vigore dal 1 gennaio 2020. Cioè la regione toscana ha scientemente scelto di non incassare questi 9 milioni di euro nel 2020, nel 2021 e nel 2022 andando ad incassare nel 2023. Quindi o nel 2022 è successo un cataclisma nella regione toscana, nella sanità toscana per cui servono 9 milioni di euro in più e il presidente Gianni ci deve spiegare cos'è successo oppure il presidente Gianni ci deve spiegare perché ha rinunciato ad incassare 27 milioni di euro tra il 2020 e il 2022. O ha perso 27 milioni o quest'anno è successo un cataclisma per il quale il prossimo anno servono 9 milioni in più. A questa domanda nessuno ci ha risposto. Assolutamente è un tema di attualità. Finalmente la Giunta è riuscita a chiarire quelle che erano le evidenti intenzioni, ovvero quella di cercare di reperire delle risorse che andassero a colmare una lacuna della nostra sanità che pare oggi essere quasi un treno alla soglia del deragliamento. Quindi c'è una situazione sicuramente critica che oggi ha richiesto questo intervento straordinario. Dall'altro però sono molto soddisfatta perché di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione definita, quasi inaspettatamente è stato approvato, è passato al voto dell'Aula un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente cercava almeno di dare una risposta alle imprese, ovvero prevedendo che queste risorse andassero ad essere destinate per quanto riguarda diciamo interventi strutturali per far fronte a carobollette o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi. A noi sembra che oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive e quindi di conseguenza l'occupazione debba essere una priorità. Abbiamo come dire scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece alla sanità che già copre l'80% del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione o almeno non solo senza programmazione ma anche senza vederci chiaro su quello che è il futuro del sistema sanitario. Oggi invece siamo riusciti a dare, grazie a questo ordine del giorno, anche un indirizzo specifico a sostegno del sistema produttivo. Io credo che sia davvero un segnale importante. Aggiungo che anche Italia Viva, componente della maggioranza, ha ritenuto di seguire questa nostra diciamo intenzione di dare una destinazione precisa a questo tesoretto di 9 milioni evidentemente registrando una maggioranza che come dire su alcuni temi come abbiamo già visto ha delle spaccature. Quindi su questo c'è un tema politico che sicuramente si porrà con sempre maggiore insistenza anche in futuro. Ma Italia Viva ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse che sono 9 milioni di euro a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, di colori che più di altri stanno soffrendo e quindi noi avevamo detto fin della settimana scorso che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione, quella condizione che queste risorse siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia e riteniamo che questo sia una cosa ingiusta. Non servono queste risorse per pagare il buco della sanità. Se questo c'è deve essere spiegato se esiste o se non esiste e quindi su questo ci chiediamo chiarezza ovviamente la maggioranza di governo regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori, sui nostri principi. Si può perdere una battaglia in aula ma non si può perdere la dignità. Quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste perché altrimenti queste risorse andavano destinate qualora si voleva aumentare le tasse soltanto a favore delle imprese. Io credo che ognuno risponde degli atti che fa. In questo caso noi abbiamo votato a favore della destinazione di risorse a rafforzamento della sanità pubblica e dell'agenda sociale. Italia Viva ha ritenuto invece di non votare a favore. Chiaro che questa è una riflessione che noi lasciamo all'opinione pubblica ma che ovviamente riguarda in primis il Presidente anche per quanto riguarda i nostri rapporti. Ci spiegheranno il perché di questo voto. Per quanto ci riguarda sottolineiamo il fatto che il provvedimento è comunque stato approvato con i voti del Partito Democratico e quindi l'agenda sanitaria e l'agenda sociale della Regione potranno contare su queste risorse grazie al Partito Democratico. La Lega ha votato contro la proposta di legge del PD non tanto perché eravamo contro a togliere il 10% di sconto per chi ha dei veicoli a noleggio, quanto piuttosto critichiamo e fortemente il metodo. Dubitiamo seriamente del carattere di urgenza di questo Consiglio perché tutti sanno che entro il 10 di novembre eventuali modifiche sul bollo auto devono essere adottate dalle Regioni. Quindi c'era tutto il tempo per intervenire e questo non è stato fatto. Siamo arrivati in fretta e furia ad approvare un provvedimento che non è chiaro neppure per quanto riguarda le fattispecie di riferimento. Noi abbiamo presentato un emendamento per dire se si tratta soltanto dei veicoli a noleggio a lungo termine così come fa riferimento la normativa nazionale o anche a quelli a breve. C'è molta confusione, c'è anche divisione all'interno della maggioranza. Abbiamo visto Italia Viva che non è stata a votare questo provvedimento e consideriamo invece che la Lega è riuscita a far approvare un proprio ordine del giorno per il sostegno alle famiglie con minore a carico o con gravi disabilità. Questa è la Lega del fare. Noi cerchiamo di dare risposte, cerchiamo di analizzare compiutamente i provvedimenti che vengono da una giunta invece che è sempre più in stato di confusione. La arroganza ha la meglio rispetto a quello che potrebbe essere il buonsenso, il dialogo con l'opposizione. Ma si è arrivati al Consiglio straordinario perché deve essere pubblicata la modifica perché entra in vigore dal 1 gennaio entro il 10 novembre con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Quindi oggi era il giorno utile per poter avere i tempi poi non solo di approvarlo ma di pubblicarla sul bollettino ufficiale della Regione. Si è fatta molta agitazione su questo ma in realtà era una motivazione molto semplice. Non c'era un'urgenza per accorciare i tempi del dibattito ma solo per quello che ci richiede la legge. Bollo auto per tutti i cittadini rimarrà per l'anno prossimo esattamente quello che è ora. La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio. Quindi una nicchia, una categoria molto precisa perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se le imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della Regione nel momento in cui cambia la legge nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri proprietari ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto. quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale. Il Diamante Bianco ha varcato le porte di Palazzo del Pegaso per la presentazione della 36esima edizione della mostra Mercato del Tartufo delle Crete a San Giovanni d'Asso, uno degli eventi più antichi a livello nazionale tra quelli dedicati a questo fungo ipogeo. Allora partiamo alla grande è un evento che è molto atteso diciamo dagli amanti culinari principalmente del nostro territorio metteremo in bella vista diciamo tutti i preziosi prodotti che ci sono nel nostro territorio come sapete noi abbiamo questo riconoscimento del distretto rurale di Montalcino e saranno diciamo i principi tutti i prodotti del territorio la collaborazione sarà con il consorzio del Brunello col consorzio dell'Orcia e ovviamente il principe sarà il Tartufo Bianco. È una delle perle della nostra bellissima Toscana, saranno due weekend pieni di iniziative per far conoscere sempre di più la prelibatezza del Tartufo Bianco delle Crete senesi. Saranno giorni importanti per la nostra regione, sarà un momento in cui provare a tenere insieme la nostra idea di Toscana perché qui c'è tutto, il buon Tartufo nasce, cresce di dove c'è un territorio salubre quindi consentitemi di dire grazie, grazie al lavoro che ogni giorno viene svolto dai tanti Tartufai, grazie alla Proloco per organizzare questo evento, grazie all'amministrazione comunale e saluto anche colgo l'occasione il neosenatore Silvio Franceschelli sindaco di Montalcino e credo che questo sia uno di quei momenti che portano il nome della Toscana fuori anche dalla nostra regione ed è bello sapere che tutto questo è possibile grazie all'impegno di tante donne e tanti uomini che portano, diciamo, con il loro lavoro portano in alto il nome della nostra regione. La Toscana delle donne, una campagna per scegliere il volto di chi rappresenterà la Toscana. Ed è bella la sinergia che facciamo tra Giunta e Consiglio per mandare un messaggio, un messaggio forte che anche le politiche che noi metteremo in campo nei prossimi anni devono avere un obiettivo quello di ridurre questo divario che ancora esiste purtroppo anche nella nostra regione forse meno e da altre parti tra gli uomini e le donne. Penso che farlo in concomitanza nel periodo purtroppo triste legato alla giornata sulla violenza contro le donne ed ha ancora di più il senso di qual è la strada da perseguire, una strada che porta alla riduzione del divario come condizione minima per cercare di guardare un tempo diverso e migliore. Noi abbiamo lanciato quest'idea come Consiglio regionale di Toscana 2050 e anche in questa lettura che daremo della Toscana di domani. Ci farebbe piacere che fosse vista con gli occhi sia degli uomini che delle donne ed è per questo che stiamo lavorando per proporre ulteriori iniziative oltre queste che vanno esattamente nella direzione di ciò prima. Grazie a tutti.